per essere venuti così numerosi cominciamo con le abbiamo Rino Gattuso, Calidù Cullibali, cominciamo con le domande per Calidù, partiamo da Calvano cominciamo con Calvano mi sentite adesso? sì perfetto, buon pomeriggio Calidù una delle critiche che vi sono state mosse nel post partita con il Milan è la mancanza di carattere in alcuni di voi anche di leadership cosa senti di rispondere a chi vi ha mosso queste critiche nel post partita della sfida con il Milan? io non ho niente da rispondere a questa cosa sappiamo che era una partita importante peccato che l'abbiamo persa però sappiamo siamo consapevoli di quello che abbiamo sbagliato la mentalità è stata quella che è mancata su tutta la partita lo sappiamo che abbiamo sbagliato questo però a livello di leadership penso che non è stato un problema è vero che è successo dei episodi durante la partita che siamo stati diciamo tra virgolette troppo bravi però avevamo scusatemi avevamo pensato soprattutto al rettangolo verde e a giocare a calcio per il resto volevamo fare niente poliche polimiche però sappiamo che cosa abbiamo sbagliato e lavoriamo su questo andiamo con la traduzione da dober dani dobrodošli pitanio è dopo un'utacmice protiv Milana puno ste dobili critica rekli su da niste imali voli karaktera i leadership che ste trebali imati cosa pensate o tome non ho niente da dire da da isgubili smo utacmice nismo imali valida dobru mentalitet ali leadership imamo a da ponekad napravili smo greške ali ne žalimo polemike prosite ali ja napravili smo greške scusate će koliko nokor mikrofon a cezo seno teritorno da napravili smo greške ali nismo ovdje za polemike znamo što smo grešli i sadrati maltono bene ancora per Kalidu Tina se non c'è Tina Mele non c'è Mele mi sentite? si eccoci ok salve buongiorno a voi volevo chiedere a Kalidu una cosa relativa al fatto che si gioca in undici si gioca in undici si difende in undici e si attacca in undici che cosa non ha funzionato nella fase difensiva di tutta la squadra domenica secondo te? penso che abbiamo concesso poco su questa partita loro hanno fatto gol su due gol di Ibra che sono stati goli difficili su un giocatore che è difficile da marcare il terzo è successo dopo che volevamo ribaltare la partita però penso che a livello tactico e tecnico abbiamo fatto la partita che dovevamo fare abbiamo concesso poco abbiamo avuto occasione mancato solo i gol e non prenderli dietro però penso che si dice tante cose sulla nostra squadra tante critiche ma io le vedo come motivazione vedo questo come voglia di fare ancora meglio vogliamo dimostrare che non diciamo quello che tutti stanno dicendo oggi che non ci sono problemi in questo gruppo né con lo staff né con nessuno e noi siamo consapevoli di quello che possiamo fare e sappiamo che domani sarà una partita difficile che anche domenica abbiamo una partita difficile però penso che possiamo farcela e che anche il nostro compionato può iniziare anche da domenica che dobbiamo veramente mettere tutto a posto e si può fare in un attimo quindi siamo tutti tranquilli traduzione la domanda per cari due è molto semplice siccome ci sono state tante chiacchiere a mio avviso anche destabilizzanti negli ultimi giorni ti senti di schierarti a nome di tutta la squadra con Gattuso? a questo non è non che c'è nessun dubbio penso che il mister sa che siamo a cento per ton dietro dietro di lui lui se io ho una una voglia qualcosa noi siamo sempre a disposizione quello è il più importante il resto tutto quello che si dice come l'ho detto prima per me è motivazione a me piace quando si si parla così perché nessuno sa quello che succede nel nostro spogliatorio e ora lo dimostreremo sul campo perché abbiamo perso una partita contro la prima di classifica penso che tutti stanno parlando facendo polemiche su di noi però io vedo veramente che la gente ha paura di noi perché se tutte queste polemiche succedono dopo una sconfitta contro la prima di classifica significa veramente che questo Napoli può fare paura quindi dobbiamo essere consapevoli di questo e lo dimostreremo sul campo da domani e da domenica bene traduzione cari dupo andare grazie previše previše se priča o vama ovih dana rekao jesi li ti je li momčad uz trenera uz gatuz da 100% mi smo uz njega mi smo na raspolaganju i ja upravo volim te tračeve koje čujem jer to kao što sam rekao to je samo dodatna motivacija mi smo izgubili protiv momčadi koja prva na ljestvici to je milana si možda toliko priče o nama jer se Napoli a boja to zana si je sto dodatna motivacija domande per Rino Gattuso cominciamo con Nicita Gazzetta buongiorno Rino buongiorno a tutti buongiorno volevo fare una domanda partendo dal discorso che viviamo un momento di pandemia di crisi in generale che non riguarda solo il calcio quindi partendo da questo ti volevo chiedere quanto influisce tutto questo nella testa dei giocatori in cui ci sta quello ci stanno le famiglie ci sta anche può essere la question degli stipendi non deve essere per forza primaria quanto possono influire queste cose esterne e quanto il tuo lavoro per come impostato non rischia di diventare nella testa di 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 un giovane di venti trent'anni una sorta di overdose ma nella mia squadra devono pensare a lavorare perché penso che abbiamo una fortuna sia io il mio staff i miei giocatori chi lavora nel mondo del calcio perché firmiamo dei contratti importanti sono cifre importanti siamo tutelati ed è per questo che in questo momento non bisogna pensareci perché se si pensa a questa andiamo alla ricerca degli alibi chi mi conosce sai che chi mi sta vicino chi lavora con me alla ricerca degli alibi non può stare con me io voglio io vivo questo lavoro a 300 a 300 all'ora tutti i giorni ho grande passione lo faccio con grandissima voglia e voglio persone che ci mettono voglia ci mettono passione io nella mia squadra vedo tutto questo troppo facile andare alla ricerca a parlare di stipendi non ho nessuna paura perché vedo una squadra che mi segue una squadra che secondo me e lo dicono anche i numeri sta giocando un grandissimo calcio sicuramente dobbiamo avere più malizia ci vuole più cattiveria agonistica ma la squadra io sono contento di quello che sta facendo dopo se qualcuno qua a Napoli pensava che dovevamo fare 130 punti e non perdere mai non è il mio problema io so che la squadra mi sta dando che tipo di calcio sta proponendo sicuramente possiamo fare meglio lo sappiamo che possiamo fare meglio però la strada che abbiamo cominciato mi piace molto traducione che sono mi piace e se mi pensate che stiamo scopendo 130 punti in tre utacmice vado che stanno giocando una utacmice io sono un po' più rosato vogliamo che ha usato sia in pubblico sia con i giocatori e ha visto già una reazione da parte dei suoi calciatori ovvero se hanno compreso bene innanzitutto almeno dopo qualche collega non mi fa la domanda quello che avete scritto e chi l'ha scritto sicuramente non è tutto vero io non ho litigato con la squadra ho parlato solo io alla squadra ho espresso le mie parole la squadra non c'è stato nessun litigio e nulla io non devo vedere nulla io devo vedere vedo sempre l'impegno durante la settimana vedo un grandissimo senso di appartenenza è normale che in questo momento come ho detto già prima tutto questo non basta voglio vedere un qualcosa in più perché non vorrei che il giocare bene tante volte ci fa sedere noi non possiamo giocare solo di fioretto ci sono dei momenti quello che ho detto alla squadra che bisogna leggere le partite la lettura delle partite è fondamentale se certe volte bisogna stare là e soffrire questa squadra l'ha dimostrato tantissime volte da quando sono qua pur non giocando un grandissimo calcio ma stavamo là davamo la sensazione di non prendere mai i gol e in questo momento dobbiamo ricominciare ad annusare il pericolo perché penso che il fatto di voler giocare bene sempre per 90 minuti non si può e c'è il momento che devi mettere nel metto e giocare un calcio diverso questo è quello che voglio dei miei giocatori dopo penso che c'è qualcuno che non forse non mi esprimo bene benissimo in italiano però dopo quando sono andato a Sky ho detto che la responsabilità era la mia perché dopo un anno se ancora non riesco a vedere le cose che chiede alla squadra vuol dire che la responsabilità è la mia non c'è stato nessun non ho massacrato nessun giocatore perché parecchi di voi avete detto che ho dato la responsabilità del giocatore la responsabilità è la mia perché vorrei la squadra e loro sanno come mi piace come intendo il calcio certe volte si può giocare anche male ma si può metterci più agonismo basta Revoluzione Rino kako ste provali ovih dana nakon kontakmice protiv Milana nakon vaše izjave jeste li već vidjeli reakciju nogometaša ma gledajte vi ono što ste vi napisali vi novinari nije istina ja nismo se svađao ja sam samo izrazio izrazio svoje mišljenje i to je to u stvari oni su dobro radili svi ovih mizeci ja hoću nešto više da tražimo od njih da bolje čitaju takmice da budu pametnije jer ne mogu oni igrati 90 minuta na 100% snaga ali to je to vi ste ovo baš krivo objasnili i predstavili ja kao što sam rekao nakon utakmice ja sam odgovoran za ovu momčad jer ako nakon godinu dana ne mogu dobiti ono što sam tražio od igrača znači da sam ja odgovoran ja nisam napadao igrače nisam napadao nogometače nisam napadao nogometače samo sam rekao da sam ja odgovoran i to je to azzi di repubblica c'e si sono mi sentite si si un poveriggio a tutti ehm rino volevo partire da un dato statistico nelle ultime sette partite il napoli è andato in svantaggio cinque volte che sono tante ma c'è un problema di approccio mentale alle partite forse si lo sapevo questo dato secondo me dobbiamo tante partite abbiamo sbagliato tantissimi primi tempi e questo è un dato di fatto perché anche domenica secondo me è stata fatta una buonissima partita ma i primi quindici minuti non pervenuti abbiamo sbagliato tanto in costruzione ogni singolo giocatore ha sbagliato tanto e penso che abbiamo qualcosa che ci deve far riflettere penso sia io che il mio staff è un dato che già ne stiamo parlando bisogna migliorare bisogna migliorarlo perché dopo non è facile dopo la squadra è brava perché ha qualità perché anche il primo tempo con Rieca tanti primo tempo con Benevento se non è una squadra forte difficilmente puoi rientrare in partita ma tecnicamente la mia squadra è tanta roba e forse quello che dicevo prima è per questo che dobbiamo alzare l'asticella a livello a livello mentale dobbiamo entrare subito in partita non regalare perché a noi nessuno ci regala niente e queste sono tutte le cose che io dico alla squadra perché ci basiamo molto sui dati però dopo bisogna andare a leggere anche gli altri dati il volume perché voi giudicate le partite basta dopo ci sono tante altre cose che questa squadra lo fa e greggiamente fa tantissime cose giuste però secondo me per diventare una squadra forte e distruggere gli avversari ci manca questo passaggio questo dato che hai detto te traduzione e poi andiamo con Altamura cronaca di Napoli da Rino u zadnjih sedem utakmita vaša momčad je bella o nepovolnom položaju pet puta je li problem valda mentalni pristup momčadi a možda mi puno grešimo na početku i o tome valda da trebamo rasmislati i poboljšati početak naših utakmita to smo mi smo kvalitetna momča to smo pokazali srijekom i u drugim prilikama ali ako na početku toliko greši na kraju teško se vratiti i utakmicu tako da da pa morate gledati i drugi statistiki i druge podatke koje vi ne vidite vi samo analizirati i utakmicu i podatke i to i to ali ima puno stvari koje moja momčad radi jako jako dobro veoma dobro ali ako želimo pobjediti moramo da moramo poboljšati na naši mentalni pristup utakmicano Altamura cronache di Napoli buongiorno buongiorno a tutti mister buongiorno parto anch'io da un dato statistico in campionato il Napoli è la prima squadra per tiri tentati 125 però ha realizzato 16 gol questo significa che mediamente fa un gol ogni sette tiri tentati questo è un altro problema sul quale si deve porre rimedio e come si può porre rimedio ma non è solo la questione di tirare meglio è come e le volte che arrivi perché ieri abbiamo fatto vedere sette clip alla squadra ci sono state due azioni che eravamo cinque contro uno abbiamo sbagliato l'appoggio due clip quattro noi e due di loro abbiamo sbagliato l'appoggio e la qualità di gioco che è molto alta e stiamo sbagliando stiamo sbagliando tanto ma di giocatori Driss difficilmente quest'anno ha sbagliato quattro o cinque occasioni nella sua posizione gli altri anni era un cecchino possono succedere in momenti così e ci stiamo lavorando perché stiamo a livello balistico stiamo facendo qualcosa in più è normale che quando si gioca ogni tre giorni non puoi sempre far calciare i calciatori o fargli attaccare gli ultimi venti metri bisogna stare attenti però lo sappiamo che la nostra ma in tutti i dati siamo siamo nelle prime posizioni ed è per questo che in questo momento non mi preoccupa la qualità di gioco e come sta giocando la squadra mi preoccupa che secondo me dobbiamo quando parlo di cattiveria non solo quando non ci abbiamo la palla ma anche quando ce l'abbiamo saper leggere bene le letture e stiamo sbagliando tanto su questo ed è per questo che dico che ognuno di noi in questo momento deve dare un qualcosa in più perché le prestazioni ci sono ma ci dobbiamo mettere in qualcosa in più Traduzione Ok Rino, vaša momciad è la prima momciad in Italia U Italii pokušala je zabiti gol 125 pute znači 125 udarta i zabila je samo 16 golova znači svaki jedan gol svaki sedmi pokušaj Kako riešiti ovaj problem? Gledajte, nije samo to problem je kako se ponašaju Kad su pred vrate Jučer smo gledali video iz prošle jutakmica u nekoliko navratima one su bili pet a protivnici samo dva i onda su izgubili loptu Tako da ja mislim da kao na primjer Dris je propustio paru šansa ove godine a prošlo godine je bio savršen Ono što mislim je da podaci su dobri ja nisam zabrinut za to nego sam zabrinut za mentalitet i za citanje igre i ovome moramo dodatno raditi Allora le ultime due Sučić di novi list e poi in prota di Canale 21 C'è Sučić? Gospodine Sučić imate rieči Non c'è in prota di Canale 21 Sì Salve Gattuso le chiedo lei ha parlato di mancanza di mentalità ed è ritornato sull'argomento quindi in primo luogo quando manca la mentalità subito dopo ci si guarda negli occhi ci si confronta anche a Musoduro una cosa normale abbastanza all'interno dello spogliatoio e questa è la strada che continuerà a percorrere e poi una curiosità sceglierebbe ancora Politano così vicino a Mertens? Tutta la vita tutta la vita perché secondo me è stato uno dei migliori in campo ha avuto 4-5 occasioni non sapevano mai come prenderlo la rifarei ma non è un ruolo che mi sono inventato io che a Sassuolo l'ha fatto più di una volta Musoduro voi pensate che io vado tutti i giorni a Musoduro non è così ci sono i momenti che bisogna andare a Musoduro ci sono i momenti che bisogna dare la carezza ci sono i momenti che bisogna dire bravo momenti di mandare a fanculo chi se lo merita io sono molto attento sulla gestione io penso che in questo momento la parola mentalità è ampia io ho detto soltanto che questa squadra qua deve alzare l'asticella deve non pensare a quando è brava ma certe volte riuscire a giocare in un modo diverso quello di stare là di annusare il pericolo di aiutarsi e non stare sempre a pensare quello che fa il compagno questo penso che se riusciamo a migliorare questo siamo una squadra forte lo sappiamo i miei giocatori lo sanno io sono orgoglioso di allenare questa squadra perché è una squadra forte e bisogna solo aggiustare questo modo di stare in campo perché il resto va tutto bene dopo e lo ridico tutto quello che si dice tutto quello che viene fuori soltanto qualcosa c'è di vero ma altre cose non non stare né in cielo né in terra traducione poi a concludere tele luna ok vi ste spomenuli opet mentalitet znači da je to problem mogli li vas pitati ako opet biste stavili Politano i Mertens toliko blizu jednom drugom isti sastav gledate što se mentalitete tiče nisu bile grube rieci, vi ste ovo napisali postoje momenti, ima momenti za grube rieci za nježnost, za poslati nekoga u rodno mjesto ali nije to problem, nismo imali nikakve probleme, samo smo mirno razgovarili i pričali o takmici znamo praviti svoje momcadi, tako da ja sam želim da oni rade nešto više i jako sam ponusan momcadi samo trebamo neke stvari poboljšati a sve ono što vi pišete neke stvari su istinite neke su potpuno važne Ok, mi smo gotovi neke su potpuno važne Grazie a tutti.